Buongiorno ragazzi, oggi è domenica, mi sono appena svegliata, credo si veda, tra l'altro sto ancora combattendo con questa specie di orzaiolo che vi devo ringraziare perché mi avete mandato un sacco di consigli, c'è chi mi dice di fare impacchi con la camomilla, c'è chi mi dice di mettere la crema antibiotica, la pomata antibiotica, c'è chi mi dice di sfregarci sopra un anello d'oro, non ho ben capito perché ma siete in tanti a dirmelo, c'è chi mi dice di guardare il fondo di una bottiglia di olio di oliva. Non capisco come mai ma effettivamente ci sono un sacco di rimedi, io ho provato con la camomilla, non mi fa niente, quindi sto mettendo la pomata antibiotica. Sperando che passi, oggi in realtà domenica di relax, voglio fare una specie di spa a casa, ok? E voglio fare, allora, maschera per il viso, penso che userò questa, che ragazzi ancora non ho provato, lo so mi rendo conto, è abbastanza assurdo che io non l'abbia ancora provata perché ce l'ho da un po', ed è la Radiance Boosting Glitter Face Mask Glow Job di Too Faced, che è super super carina, se riesco ad aprirla con una mano ve la faccio vedere, perché è strapiena, strapiena, strapiena di glitter, wow, ed è una maschera peel off, quindi si toglie molto molto facilmente e aumenta la luminosità del viso, e quindi niente niente male direi, vediamo un po' com'è, di là intanto c'è Gatto Denver, buongiorno Gatto Denver, buongiorno Gatto Denver, scusa, ho chiuso la porta, ciao amore mio, sei mio gattino bellissimo, sei mio gattino bellissimo, è il tuo amico subito dietro, buongiorno Gatto Max, buongiorno, sempre insieme voi due, sempre insieme, che bravi, staglio e olio, sei tutto ciccioni tu, si, è il gatto Max, è tutto magrolino, si, teppisti, poi altra cosa che voglio fare è lo sbiancamento ai denti, e spero di averne ancora, in realtà se sentite un rumore sospetto, ho attivato il robot aspirapolvere, e sì, questo è lo sbiancamento, lo tengo in frigo, fa impressione, sembra una siringa, ma in realtà è un gel sbiancante per i denti, questo è del brand Smile Brilliant, e mi ci trovo da Dio ragazzi, in realtà uso anche, ho usato anche altri sbiancanti, quindi non necessariamente solo questo è buono, ma con questo mi trovo molto bene, e ci avevo collaborato con questo brand, tempo fa mi hanno mandato praticamente una scorta a vita, e sono molto grata al brand per questo, perché lo uso spesso, wow, ok ci sono, quindi faremo sbiancamento ai denti, maschera per il viso, un po' un trattamento spa relaxing a casa, e poi e poi vorrei fare anche la maschera ai piedi, se la trovo, perché ne avevo una di Deborah Milano, che vorrei provare, ma vediamo di trovarla in questo casino, chissà, devo averla regalata, probabilmente l'ho regalata a Demelza, perché lei è un amante delle maschere per il viso, e per i piedi, per le mani, eccetera, lei le usa molto più di me, quindi può essere che io l'abbia regalata a lei, poi però ho trovato, sì amore mio, sì, amore mio, sì il mio gattino è tutto bianco, sì, 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 è tutto bianco, un poco arancione, sì tutto bianco il mio amore, sì tutto bianco, abbiamo ancora un po' di acne, ma la togliamo di nuovo, amore mio, amore mio, oh, sei il mio gattino è tutto bianco, sei tutto bianco la mia nuvoletta soffice, sei tu, sei tu la mia nuvoletta tutta soffice, sì, il mio amore è piccolo, nel frattempo, sì, gatto d'ember, cioè appena smetto di coccolarlo, inizia, sì, amore mio, ho capito, ho capito, amore mio, ho capito, allora, non ho trovato alla fine la maschera per i piedi, che non so dove sia finita, ma, ma, ho trovato, videocamera, perché non te ne stai ferma, fa niente, ho trovato questi, sono tipo quei pad per i sottocchi, quindi, maschera per il viso, illuminante, che ci sta sempre, e poi voglio troppo provarla questa maschera, perché ce l'ho da troppo tempo, e visto che l'ho vista ovunque, sono troppo curiosa di vedere se effettivamente è veramente così illuminante, e vabbè, poi solo perché hai glitter voglio provarla, diciamoci la verità, poi ho questi patch per gli occhi, e ho trovato anche una spatolina, perché non avevo più la spatolina di questa maschera, e bisogna attivarla, e poi faremo lo sbiancamento e lo scrub per le labbra, ma lo scrub per le labbra e la mascherina per i denti ce l'ho di là, quindi intanto pensiamo alla skin care, è tantissimo tempo che non faccio una maschera per il viso, ragazzi, forse perché sono sempre un po' lestia, e ho paura che mi facciano allergie strane, non lo so, le maschere per il viso purtroppo possono essere o super 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 utili, e quindi, insomma, essere un tocca sana, ma possono anche essere un po' un problema, perché la pelle è delicata, perché possono creare irritazioni, roba del genere, è troppo troppo una figata questa maschera, l'avete mai provata? Visto che è uscita da un po', presumo che molti di voi l'abbiano già provata, voglio sapere se vi ci siete trovati bene, oppure no, e allora dicono di mescolarla un po' per attivarla, wow, i glitter sono meravigliosi, non che sia semplicissimo a dire il vero, con le maschere pilò bisogna sempre stare attenti a creare uno strato uniforme, altrimenti poi sono difficilissime da togliere, e io mi auguro che non sia di quelle che fanno male, perché la mia storia con le maschere pilò è un po' complicata, come ben sapete, ok, allora io sto combinando un disastro, probabilmente questa non è la spatola giusta, cioè non so se vi state rendendo conto ragazzi, aiuto, ok ragazzi ci siamo, non so se riuscite a vederla bene, ma da vicino è bellissima, perché sono tutta 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 glitterata, guardate che roba, è troppo una figata, troppo troppo una figata, spero di aver tolto tutto l'eccesso così non cola, perché altrimenti 30 minuti mi ritroverò tutta la maschera sulla maglia, però adesso aspettiamo quindi 30 minuti, anzi più o meno quando si sarà asciugata la toglieremo, nel frattempo questi patch che da un po' che non uso, ma ragazzi sono fantastici, sono veramente veramente ottimi, questi sono del brand Patchology, in realtà li ho trovati al Beautycon a Los Angeles, quindi non so se si trovano anche in Italia, ma alla fin fine un po' tutti questi patch contengono gli stessi ingredienti e sono tutti simili, e io non so mai metterli questi patch, cioè non so mai se la zona più piccolina va al centro oppure no, io li metto così, all right, ah sento già la mia pelle che si sta rinfrescando, e mamma mia avevo proprio bisogno, specialmente ragazzi dopo l'estate, non lo so, la pelle è proprio provata, prima di passare alla fase labbra e denti, vorrei fare colazione, e anche se sì sono tipo mezzogiorno e 40, ma non ho fatto colazione, e allora useremo una pesca, e due albicocche per fare un frullato, e ragazzi ho finalmente finito quel latte di mandorla terribilmente zuccarato della Fabri, che ripeto non è male, solo che è troppo dolce, ed ho questo finalmente dell'altro, la maschera sta letteralmente colando su se stessa, dettagli ragazzi, dettagli, allora versiamo un po' del latte di mandorla, faccio sempre un po' a caso a dire il vero, ho dovuto togliere i patch perché stavano crollando praticamente, però sì ragazzi, siate fieri di me perché vi giuro, non ho mai mangiato gli spinaci, e negli ultimi, ieri e l'altro ieri mi sono fatta il frullato con gli spinaci, ok ho usato gli spinaci e quelli surgelati, ma ragazzi al supermercato l'ultima volta che ci sono sfrutta non c'era lo spinacino e quello in busta, per questo ho usato quello, però userò lo spinacino e quello in busta come vi avete consigliato voi, perché mi dite che non si sente il sapore, ma nemmeno da quello surgelato in realtà si sente tantissimo, comunque adesso lavo la frutta, prepariamo il frullato, e poi vado a rilassarmi un po' con la mia maschera, non aggiungo altro perché secondo me gli spinaci con questo smoothie non sono proprio il massimo, e ripeto non ho tantissima voglia di yogurt greco, quindi facciamo un frullato un pochino più semplice, il profumo è buonissimo, super goloso, e io adoro i frullati di pesca e albicocca in estate, mmm yum, ah un po' di sano relax, era da tanto che una domenica non la sentivo come una domenica, perché di solito lavoro un sacco, in realtà ho tanto lavoro da fare al computer, anche perché, mmm, anche perché tra un paio di settimane partiamo per un posto da sogno che io amo, e quindi devo sbrigare un po' di lavoro prima, però oggi la sento proprio come una domenica rilassante, questa maschera non lo so se è tanto un successo sinceramente, perché sta tutta colando, forse ne ho messa troppa, che cosa ne dici? si decisamente Gatto Denver, decisamente Gatto Denver, nel frattempo parte della mia spa routine, perdonate Gatto Denver, che cioè non so che cosa abbia oggi, nel frattempo parte della mia spa routine, e anche ovviamente accendere una candela profumata, ma che cosa c'è? e gridi, santo cielo gridi, come se non ti coccolassi ogni due secondi, parte della mia spa routine ovviamente, comprende anche accendere una candela profumata, ma non una candela profumata qualsiasi ovviamente, ma la mia fairy tale, che ho già finito, è strafinito, è rifinito, e oggi ne accendiamo una nuova, tatara tatara, come sapete ragazzi, perché allora c'è una parte di voi che mi dice, Nicole la conoscevo, la candela eccetera eccetera, c'è un'altra parte di voi che mi dice, Nicole che cos'è la fairy tale, e perché io me la sono persa, quindi adesso vi rispiego, ok? Allora, questa è la candela, che ho creato io con Jewel Candle, e come sapete, come sapete è il brand, che crea queste candele gioiello, e oltre ad essere meravigliosa, perché ho curato tantissimo, il packaging, che ha questi flakes dorati, su tutto, tutto appunto, il pack, è una meraviglia, ho curato tutti e tutti i dettagli, oltre appunto a questi flakes dorati, anche il fiocco rosa glitterato, e poi ci sono tutti questi appunto, particolari, che ricordano molto ovviamente fairy tale, quindi il mondo delle fiabe, il mondo delle principesse, con questa corona, lo scettro, la scarpetta, e la adoro, ma la cosa che mi piace di più, a parte che è stranissimo, ragazzi, vederci la mia firma, non ci posso ancora credere, e la cosa che adoro di più, naturalmente, è il profumo, perché profuma di vaniglia, e caramello, che è qualcosa di fantastico, fantastico, è dolce, ma non troppo, e profuma tantissimo, anche gli ambienti più grandi, ho scelto ovviamente, di realizzare la candela, quella più alta, così vi dura tantissimo, e, vabbè, qui c'è, il bigliettino, ma la cosa più figa, di questa candela, ovviamente, se mi seguite lo sapete, è che all'interno, è una vera e propria candela gioiello, perché all'interno, c'è un gioiello, in argento, placcato oro, e ci sono, tantissimi, tantissimi orecchini, diversi, che potete trovare, che sono poi, quelli, che mi chiedete spesso, Nicole, dove trovi questi orecchini, questi sono gli orecchini, a parte l'ultimo, che si trovano nella mia candela, anche questo fulmine, quasi tutti, praticamente, gli orecchini che indosso, da quando è uscita la mia candela, sono i miei orecchini, perché? Perché li ho disegnati io, li ho creati io, e per me sono i più belli del mondo, e ve li voglio far rivedere, se ancora non li conoscete, questi fiocchetti, che secondo me, sono molto, molto carini, e, ripeto, sono tutti in argento, placcato oro, bellissimi questi, poi, naturalmente, non potevo, non, creare un paio di orecchini, anche, a forma di gattino, ci mancherebbe altro, lo sapete che sono una super amante dei gatti, quindi, assolutamente, c'è il gattino, poi, allora, l'altra, questo è un anello, l'altro, lo sto indossando, ecco, perché ce n'è solo uno, ma, in tutte le candele, trovate una coppia di orecchini, poi, ci sono, allora, questi brillantini, sono tutti molto, eleganti, e, raffinati, e per niente, sfarzosi, o esagerati, in modo da poterli indossare, sia da soli, che, abbinandoli ad altri, se avete più buchi, come me, poi, ci sono le stelline, vorrei indossarle queste, forse toglierò il fulmine, e metterò la stellina, poi, c'è, ci sono, questi cuoricini, con gli strass, eccoli qua, poi, ci sono, questi altri anelli, con gli strass, su tutto il cerchio, poi, c'è, questo, è, stupendo, perché c'è la scritta, love, poi, abbiamo, la scritta, now, che riprende, come ben sapete, il mio tattoo, se sentite un rumore sospetto, sta arrivando, il robot aspirapolvere, ed è per questo, perdonatemi, quindi c'è la scritta, now, che ho voluto creare, appunto, pensando al mio tattoo, tattoo, poi, c'è, il fulmine, l'altro, come avete visto, lo sto indossando, anche questo, ha tantissimi, tantissimi strass, e, stendiamo un velo pietoso, sulle mie unghie, che purtroppo, se avete visto, uno degli ultimi vlog, sapete, come mai, sono così indecenti, e non vedo l'ora, che la mia estetista, ritorni, poi, ci sono, ah sì, queste, ho dovuto, assolutamente, visto che il tema, della candela, è, insomma, sono le fiabe, le principesse, ovviamente, c'è, una corona, anche questa, con gli strass, poi, abbiamo, Believe, che, è, anche questo, ispirato, forse questo, è quello più speciale, tra tutti gli orecchini, che ho creato, perché, è ispirato, a questo, mio, tattoo, a cui sono particolarmente, affezionata, e poi, allora, abbiamo, la luna, perché la luna, perché era il mio simbolo, all'asilo, ed è stato un po', il mio simbolo, praticamente, sempre, forse perché sono anche, un pochino lunatica, e poi, c'è, allora, ci sono i cuoricini, anche questi sono molto semplici, molto eleganti, ma, mi piacciono, perché, si possono veramente, abbinare a tutto, e portare in tutte, tutte le occasioni, e poi, ci sono, questi cerchi, con gli strass, e con il simbolo, dell'infinito, che ha, un importante significato, e poi, ci sono, questi, cuoricini, con gli strass, ed un diamantino, ed un brillantino, al centro, anche questi sono meravigliosi, li adoro, e questi sono, tutti i gioielli, che potete trovare, all'interno, della mia candela, e ragazzi, vi ringrazio, perché in tantissimi, già l'avete acquistata, in tantissimi, mi state mandando foto, eccetera, con gli orecchini, che avete trovato, all'interno della candela, continuate a farlo, perché mi fa davvero, tanto, tanto, tanto piacere, vi metterò comunque, il link, all'acquisto, della mia fairy tale, qua sotto, nel box informazioni, e ragazzi, sia come regalo, che come, regalo a se stessi, che come regalo agli altri, vi garantisco, che, è pazzesca, vabbè, ovviamente, l'ho creata io, quindi per me, è la candela più, perfetta, e più speciale, che possa esistere al mondo, creato io la profumazione, ho creato io, gli orecchini, e quindi tutti i gioielli, che trovate all'interno, e quindi per me, è la candela perfetta, e io la adoro, e ragazzi, mamma mia, c'è un profumo, super 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 goloso, in tutta la stanza già, e l'ho appena accesa, letteralmente, quindi, e chi ce l'ha, può testimoniare, scrivetelo nei commenti, perché, lo so, ho scelto la fragranza, quella, più forte, tra virgolette, perché in realtà, non è troppo forte, non dà fastidio, però ho scelto una fragranza, che si sente, perché mi piacciono, le candele profumate, che profumano tutti gli ambienti, anche quelli più grandi, ho finito il frappè, adesso posso passare, allo sbiancamento denti, e queste sono, le mascherine, che vi dicevo, sono state fatte, proprio, e con l'impronta, dei miei denti, praticamente, quindi si, restano, perfettamente, aderenti ai denti, adesso vi faccio vedere, praticamente, vado a, spingere, il contenuto, della siringa, all'interno, delle mie mascherine, non è facile farlo con una mano, ma ci posso provare, per farvi vedere, inizio, praticamente, da, dal canino, anzi, vado indietro di un dente, ma, non, non metto mai, lo sbiancamento, sui, sui denti, sui molari, se non sbaglio, ok, praticamente, una linea, sottile, sottile, basta, e avanza, perché poi, comunque, si, si, sparpaglia, cioè, si, basso tutto il dente, sostanzialmente, io, cioè, veramente, premore, non so più parlare, e stessa cosa, anche, sulla mascherina, sotto, e voilà, e la maschera, nel frattempo, si sta, praticamente, togliendo da sola, quindi, direi che è arrivata, ora di toglierla, ci sono dei pezzi, che non si stanno asciugando, perché, evidentemente, ho esagerato con il prodotto, ma il resto, se ne sta andando, quindi, direi che possiamo, toglierla, sempre una bella sensazione, togliere le maschere, peel off, sono l'unica, che è fissata, con queste cose, a me piace tantissimo, vederlo, ho tolto la maschera, sono riuscita a togliere, tutti i residui, parlo un po' strano, ovviamente, per via delle mascherine, sbiancante, comunque, vi devo dire la verità, allora, sicuramente, la pelle è più luminosa, e non la sento grassa, non la sento, esageratamente, appunto, oleosa, mi piace la sensazione, però, vi dico la verità, secondo me, questo fatto, di mettere glitter sul viso, i glitter, cioè, sono comunque plastica, secondo me, un po' mi ha infiammato, i brufoletti, che già avevo, quindi, è stato o non è stato, io adesso, ci metto un po' del liquid gold, con acido glicolico, perché, secondo me, non è proprio, la maschera adatta a me, infatti, tipo, questo brufoletto qua, me l'ha infiammato, sicuramente, me lo sento proprio, sì, più, rosso e più infiammato, quindi, altra cosa che mi manca, per la mia spa routine, è, la cura delle labbra, quindi, faremo un super scrub, con il bubble gum, bubble gum, lip scrub, di Lush, e poi, mettiamo un buono cacao, super idratante, così, anche le labbra, hanno la loro bella maschera, idratante, che non fa mai male, specialmente in estate, perché, in molti, si dimenticano, di mettere la protezione, sulle labbra, e quindi, le labbra, praticamente, soffrono tantissimo in estate, perché, poverine, anche loro si ustionano, e hanno bisogno di extra, di cure extra, specialmente, nella bella stagione, quindi, non dimentichiamoci delle labbra, ok, sto appoggiando la videocamera, praticamente, vi sto appoggiando qua, ragazzi, davanti alla schiuma, da barba di Eric, ok, vediamo se, riesco a farvi stare, fermi, sì, ci siete, top, adesso crolla tutto, lip scrub, questi scrub di Lush, sono fantastici, perché durano un sacco, ok, ci siamo, io lo sciacquo sempre lo scrub, alcuni se lo mangiano, a me fa un po' schifo, mangiarmi le pedicine, quindi, lo sciacquo, e poi, tu tu tu, balsamo labbra, sto usando questo, della Yves Rocher, che è, balsamo nutriente, e protettivo, è fantastico, mi piace un sacco, crema occhi, rigorosamente, voi lo sapete, io ho sempre, il contorno occhi, bello, idratato, ho sempre, 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 sempre applicato, da quando ho tipo 15 anni, la crema per il contorno occhi, mattina e sera, e sto finendo, questo di Kiehl's, è la creamy eye treatment, con avocado, infatti ha questo colore avocado, ma appunto, ormai è così finita, e la applico sempre in abbondanza, secondo me, la crema occhi, aiuta tantissimo, a prevenire le rughe, quando sento il contorno occhi secco, sono sempre che corro ai ripari, infatti sto pensando, alle tante ore di volo, che dobbiamo fare, tra un paio di settimane, perché praticamente viaggiamo, per una giornata intera, per raggiungere questa destinazione, che ancora non vi anticiperò, ma vi ho messo una foto, su Instagram, quindi forse in tanti avete capito, forse, forse sì, forse no, e comunque sto pensando, anche in volo, di portarmi, una crema occhi, perché di solito, mi porto solo la crema viso, e poi mi pento sempre, sento il contorno occhi secco, cosa che non va bene, e questo è quanto, per il momento, non applico altre creme sul viso, perché ho messo il liquid gold, e lascio che faccia il suo effetto, e adesso, ultimo trattamento, per la nostra sparrotina, mentre aspetto che, lo sbiancamento faccia effetto, faccio anche una doccia rilassante, e in doccia, useremo anche questo scrub, che vi faccio vedere, è del laboratorio erboristico italiano, ed è un ottimo scrub, per il corpo, la città è letteralmente deserta, ragazzi, non ho mai visto una cosa del genere, guardate che roba, non c'è nessuno, sono ovviamente, tutti al mare, tranne me, praticamente, che sto andando da H&M, perché avevamo visto con Erika, e allora mi è venuta sta roba, e gli ho detto, senti, andiamo in questo posto tropicale, fichissimo, quindi devi assolutamente prenderti, quelle camicie con le palme, avete presente quelle camicie, proprio da turista, al 100%, ok, e quindi, siamo andati, e da H&M ne abbiamo visto una carina, però non c'era la sua taglia, e qui c'è un altro H&M in centro, e sto provando a vedere se c'è, così, poi stasera quando torno, magari gliele faccio trovare, mi fa troppo ridere, perché queste camicie sono, l'assurdità più assurda, e fanno super super ridere, però ragazzi, c'è mood da vacanza, c'è piedi scalzi, e camicia hawaiana, cioè, mi sembra ovvio, questa sembra veramente, una città fantasma, ad agosto, ovviamente, è una splendida giornata, quindi, è chiaro, siamo tutti al mare, i negozi vuoti, deserti, però vi posso dire la verità, Triestini, non uccidetemi, secondo me, andare al mare a Trieste, non è che sia proprio il massimo, perché, spesso e volentieri, siamo, o sul cemento, oppure, abbiamo un po' di spiagge, con i sassolini, ma sono, tutte super affollate, non è che sia proprio il mio ideale, di giornata al mare, se devo dire la verità, invidio un po' chi è al sud, ha queste spiagge bianche, con la sabbia bianca, meravigliosa, tanto spazio, qui è un po' così, non mi piace tantissimo andare al mare a Trieste, devo essere sincero, sono quasi arrivata, vedo H&M, tra l'altro, poco fa, un tizio per strada, mi ha detto, bellissima, quindi almeno, devo dire che è stato gentile, perché, sempre meglio dei fischi, e degli apprezzamenti, oh mazza, sei bellissima, almeno, è stato carino, eccoci, non so se vi ho fatto vedere bene l'outfit, comunque ho messo quest'abito, che ho preso su Boohoo, leggerissimo, è anche molto carino, secondo me, e la borsa, di Orvarrone, che ha binato questa cintura sottile, e sto guardando le camicie, ma purtroppo, quelle hawaiane, con le palme, tutte fighe, da vacanza, non ci sono, sig, c'è questa, ma non è esattamente, quello che cercavamo, niente amore, mi dispiace, questo non è male, ma non c'è, non c'è proprio, che peccato, niente, però quella con Bugs Bunny è carina, niente da fare, mi sa, qui ce ne sono altre, della nuova collezione, e questa è carina, questa potrebbe essere, quello che fa per noi, però è small, quindi è troppo piccola, ah no, c'è un'altra, vediamo, vediamo questa, XXL, che è decisamente troppo grande, cioè è gigantesca, che peccato, che peccato, niente camicia vacanziera, amore mi dispiace, no, no, forse qua, no, queste sono tutte autunnali, invernali, niente con le palme da vacanza, mi sa, questa potrebbe quasi, essere perfetta, ma ha le maniche lunghe, quindi, no, niente, che peccato, che peccato, già che sono qui, diamo un'occhiata alla sezione donna, perché no, carini questi cappellini, thank you next, già le cose invernali, autunnali, mi fa un'impressione vederle, che fuori fa caldissimo, ci sono già i cappotti, carino questo però, se devo dirla tutto, molto carino, sono tornata a casa, e sono molto fiera dei gatti, perché vabbè, adesso si sono spostati, ma fino a pochi secondi fa, c'era, gatta beta, sulla copertina, qui sul divano, e gatto denver, che stava qua sul tappeto, dormivano tranquilli, il che, eccoli qua, qui c'è gatta beta, gatto max, gatto denver, il che mi rende alquanto orgogliosa, perché, è raro vedere gatta beta, che tollera, gatto denver, nelle immediate vicinanze, ecco, di solito, o gli soffia, a volte lo attacca, non gli fa male, però lo attacca, cioè, lei ha questa cosa, della dominanza, che è più forte di lei, cioè, è proprio una donna, di quelle, ok, però poco fa, appunto, stavano vicinissimi, tranquilli, sonnecchiavano, quindi, sono molto felice, e poi, è stato strano, perché, ho aperto le porte, di solito, c'è, su quattro gatti, almeno uno viene, ok, apro la porta, nessun gatto, e io, gatti, vi chiamavo, niente, e tra me e me, ho pensato, cioè, ho quattro gatti, manco uno che viene a salutarmi, e poi c'era, a parte, vabbè, beta e denver, max dormiva qua, sulla sedia, e la tastellina, la, la tastellina, è ancora lì, gatto max, buongiorno, e presto, non ti do cibo ancora, in realtà, hanno ancora crocchette, ma, altro cibo, tra un po', buongiorno, 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 sempre insieme, voi due, sempre insieme, che bravi, che bravi, pirati, mmm, sempre insieme, no, ecco, non so, se avete sentito, e visto l'attacco, di gatta beta, a gatto denver, gatta beta, devi star buona, perché ce l'hai con questo gattino, tutto bianco, e un po' carancione, perché ce l'hai con lui, perché, perché, io non, ah, ce l'hai pure con lui, pure Max, non può vedere, cioè, gatta beta, ma, ma perché, ma perché, perché, perché non ti piace stare con gli altri gatti, ma solo con gli umani, ok, mangio, nel dubbio mangio, povero gatto Max, soffia pure a te, che sei suo fratello, povero gatto Max, gatto denver, abbiamo capito, tu puoi anche smetterla di urlare, io, ho capito, ho capito, tu vuoi altre crocchette, e povero, la gatta cattiva, la gatta cattiva, lo so, lo so, la gatta cattiva, lo so, lo so, gatto denver, lo so, e questo, è il meraviglioso abito, di, soul wears women, ci tengo a puntualizzare, che non è sponsorizzato, e che mi piacciono proprio, e questo è uguale, identico a quello blu, che avete visto, nelle mie foto su Instagram, se non l'avete visto, andate a vedere, le foto, le mie ultime foto su Instagram, perché, mi era piaciuto talmente tanto, quello blu, che ho voluto prenderlo, uguale, anche in questo colore, con un rossetto rosso, secondo me, è, meraviglioso, e mi piace, moltissimo anche che la schiena, sia molto bassa, e, sì, stupendo, secondo me, prima, tra l'altro, mi è capitato di camminare, mi capita spesso, e poi cammino, e sento, e Nicole, oppure, e che se make up 01, e mi fa troppo ridere, perché poi, io capisco che mi riconoscete, però, cioè, non mi fermo, perché poi, cioè, cosa faccio, mi fermo, tipo, mi sento famosa, sì, volete il mio autografo, cioè, non è normale, ma venite a salutarmi, perché, a me fa sempre piacere, non dovete vergognarvi, lo dico seriamente, cioè, se ho fretta, magari, vi saluto in velocità, se ho tempo, mi fermo, faccio anche una foto con voi, se lo volete, quindi, non fatevi problemi, davvero, ve lo ripeto sempre, ma, ogni volta, vi vedo così timidi, e, quando mi incontrate, che mi dispiace, quindi, mi raccomando, se mi vedete, fermatemi, che mi fa super super piacere, sto guardando, un video di Jenna Marbles, che mi fa morire da ridere, Gatto Denver, se ne sta andando, ciao Gatto Denver, ciao Gatto Denver, sì, tra un po' è ora della papa, tra un po' vi do la pappa, Gattabetta è là, per fortuna la situation si è calmata un po', e io adesso mi metto un po' al computer, a rispondere alle tante email che ho, perché domani è lunedì, e quindi voglio rispondere a tutti, entro il weekend, perché sono veramente, tanto tanto indietro, ma, nonostante il periodo, che è agosto, di solito c'è poco lavoro, in realtà, quest'anno ce n'è tantissimo, quindi, devo mettermi al computer per un po', e, tra un po', mi ricorderò di dare da papa, a questi poveri gatti, che sembrano tanto, tanto affamati, e questa è la mia cenetta, un fish burger, e patatine, che ho fatto, però senza olio, ho fatto questo in padella antiaderente, e questa invece, in forno però appunto, non ho aggiunto olio, ho messo solo sale, e adesso metterò un po' di ketchup, e come potete vedere, invece Eric è molto più sanno di me, nell'alimentazione, almeno lui un po' di verdure le ha, io zero, comunque, buon appetito, e per la felicità di Eric, stiamo guardando uno dei suoi film preferiti, su Netflix, ovvero, Top Gun, eh già, sarà penso la centesima volta, però, però, aspetta, posso provare a ricordarti, che non si vede niente, perché siamo al buio, sì, lo sa a memoria, non vi dico altro, dai, mettiamo play, anche il giubbotto, vai anche il giubbotto, vero, Merlin, vedi sei uno solo, Roger, Bruce, ce n'è un altro, no vabbè ragazzi, che ridere, il film è finito, Eric si è addormentato, ma mi ha fatto troppo ridere, perché per tutto il film, lui sapeva tutte le battute a memoria, cioè, vi giuro, troppo forte, troppo forte, e poi che ti roma a dire, grande, 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 maveri, vabbè, comunque, ho visto Top Gun per la prima volta oggi, e mi è piaciuto, devo dire, è un film carino, ovviamente non sarà il mio film preferito di tutti i tempi, ma non è neanche male, è carina la storia, è romantica, molto bello Tom Cruise all'epoca, adesso non mi piace, ma all'epoca era veramente un bel ragazzo, e quindi sì, non è stato male come film, mi è piaciuto, io adesso mi strucco, perché sono ancora truccata, di solito mi strucco, prima di mettermi a guardare un film, eccetera, ma oggi sono particolarmente pigra, la batteria della mia videocamera sta lampeggiando, quindi è ora direi che vi saluti, anche perché è parecchio tardi, sono tipo, è l'1 e 12 minuti, quindi sì, ora che io vado a nanna, anche se decisamente non lo sono quest'ora, quindi potrei anche mettermi ad editare in realtà questo vlog, vedremo un attimino, no, mi sa che andrò a nanna e lo editerò domani, quindi questo è tutto, mia femmini per otti, vi mando un bacio grandissimo, e noi ci vediamo, vedete questo video domani che è lunedì, quindi noi ci vediamo martedì con un nuovo video, bacio, ciao, buonanotte, ciao a tutti,